grazie dell'info o mamma mia a lei adesso vedrà una bella battaglia con questi due questi sono quelli più feroci di tutti qui sarà un casino ucciderli a questi questi qua guarda sono tremendi sono quelli più cattivi di tutti e io non so come fare adesso niente non c'è arma aspetta un attimo che non posso leggere aspetta eh ma porco zio questi sono quelli proprio tremendi distrutti questi la missione è finita penso aspetta eh porco giuda almeno uno dai aspetta eh madonna sono tremendi questi eh come faccio a ucciderli aspetta con le granate ho una terra wow ce l'ho fatta una non ho colpi devo andare a ricaricare aspetta aspetta niente qua niente ma che cacca cambiamo arma oh ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta allora aspetta aspetta no 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 ancora vivo avevo l'ultimo ma perché a me non mi arriva la tua notifica che sta in live eh questo non è un problema mio eh perché ti spiego è una cosa che non conti video logicamente Twitch manda un tot di notifiche tu se tu mi segui hai messo anche il cuoricino eh mi tocca iniziare da capo eh eh non a tutti arriva perché non so su 100 persone eh lui ne manda come notifiche 50 tu direi perché eh anch'io mi chiedo il perché perché non è giusto il 50% di solito mandano perché se uno mi segue in tutte e due modi c'è anche il cuoricino sai c'è scritto segui e poi c'è il cuoricino eh infatti è una cosa bruttissima perché non l'ho mai capito perché fanno così se magari qualcuno che non so ha l'applicazione buggata allora magari se usi il telefono non arriva ad esempio può anche succedere quello però io so quello che ti ho detto prima si la deve lasciare attiva si la deve lasciare attiva perché diciamo se hai fortunato ti arriva infatti all'inizio nemmeno io capivo il perché poi siccome noi abbiamo delle impostazioni cioè su Twitch riusciamo a entrare su alcune cose che giustamente poi non potete e c'è scritto che ne so avvisi mandati 150 infatti mi brucia un po' perché cavolo se uno ha 1000 follower cosa fa eh capito è una cosa brutta perché purtroppo non siamo noi a decidere nel senso non è che dico va bene mando magari fosse così questo è zero infatti a volte mi dispiace perché qualcuno dice ma come meno mi è arrivata eh cavolo cioè mi dispiace perché giustamente a volte infatti io scrivo per esempio dei volantini su Instagram su TikTok sempre oggi l'ho messo che facevo halo però non posso tutti i giorni mettere sempre le stesse cose non muore questa parco zio ne avevo ucciso uno prima questi sono trementi zero colpi oh dai come faccio adesso uccidere a questi qua zero colpi avevo avuto la fortuna aspetta aspetta avevo avuto la fortuna di prenderle vediamo questo che cos'è una terra zero colpi però porco giuda aspetta 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 adesso leggo sennò muoio anche prima è rimasto solo uno no ce l'ho fatta sì ok è che stavo giocando e non mi è arrivata la notifica e l'ho tolta per sbaglio come aspetta allora questo è tiktok sì a me ovunque mi trovi come cipollotti questo è instagram se vuoi ti dico anche youtube anche se ultimamente non metto niente su youtube ci ho messo pochissime cose e poi c'è quello del team se vuoi seguirlo anche su instagram ti ho messo tutti i collegamenti ho anche facebook ma me l'hanno hackerato e quindi ho dovuto rifare un altro account ma ancora non l'ho messo semivolantini io li uso sempre su tiktok e su instagram perché diciamo sono i due social dove tanti guardano ormai anche ragazzini adulti anch'io ci guardo sempre e quindi ogni tanto qualsiasi cosa le pubblico lì su youtube ultimamente ho messo solo un volantino uno screenshot piccolo perché sai che c'è la possibilità di mettere i video anche di un minuto ma siccome ci vuole tempo per editare fare è un periodo che non riesco per il tempo però sai su tiktok e instagram mi impieghi pochissimo abbiamo tempo a metterli quindi se tu c'hai tiktok si tuo fratello ce l'ha allora dove devo andare adesso io aspetta è stato difficilissimo questi due sono tremendi guarda vediamo ale non me l'aspettavo uh uh prego prego beh oddio devo andare giù no due colpi però devo ricaricare prima dove carico due colpi c'è il ragazzo ah eh io l'uso da telefono vabbè telefono tablet non importa eh ma però questo c'ho 100 e questo c'ho due colpi prendiamo questi due oddio guarda dove devo scendere adesso non è che muoio ma sicuro che devo scendere oddio mi lancio eh si cordana ti sei divertente vogliamo rifarlo no dove andiamo dovremmo essere vicini diamo un'occhiata se non finisco la missione non posso uscire che ore sono 5 6 meno 20 oddio oddio oh poco fa sembrava un film dell'horror e adesso dove vado io di qua non posso devo andare di qua sì ma la storia infinita non finisce più questa missione signorina madonna cosa ho preso 6 colpi questa perché 6 colpi io non la voglio queste 6 colpi 36 ok questa è bestiale quest'arma eh whatsapp non lo do sono anche su telegram perché il numero non lo do eh mi sembra che giuseppe è su telegram e lo seguo cioè lui mi segue non ci siamo dobbiamo trovare un modo per superare questo bar oddio aspetta sì certo che possiamo non si sente su telegram ci sono l'avevo invitato a tuo fratello dove devo andare adesso madonna ma guarda c'è una grafica questa guarda lì dov'è oh mamma mia come si muove sta a fare oddio smira da matti ha una grafica sul gioco devi vedere Livio non so il live penso che si vede bene però niente e dove devo andare aspetta di qua ecco cosa c'è qua niente ah ho caricato eccolo ecco ho trovato che è successo oddio ci stiamo muovendo ma si muove sì sì cipollotto io vado a scaricare un attimo instagram perché me l'hanno disinstallato va bene va bene comunque su instagram se ti ripassa ti metti collegamenti basta cliccare sono oddio sempre cipollotto 19 c'è la mia faccia come quella che vedi qua su su twitch oddio dov'è e poi non ho senso instagram c'è anche il collegamento del team sono morto come mai no sono scivolato sta vedendo vabbè grazie libio ho capito ho capito adesso stavolta non mi frega però eh oh mamma mia devo caricare prima sono scivolato di qua oddio un'altra oh oddio e come faccio a caricare che non ho più le armi qua porco zio aspetta non mi piace quest'arma ma quando arriva sta a fare mai ok oh qui c'è c'è una marea ok eh io devo nascoltermi se no qua mi fanno freddo è già arrivato no? ce la sto facendo, ce la sto facendo ragazzi è fatto? è già installato? no, questo è l'altro, quello del team è già fatto, a parte che ci vuole poco però, oh mamma mia, ci sono questi che non arriva mai qua quanto è lento che sta a fare ma non cammina più, scusami no scusami, parlo da solo ah, che stupido sono già arrivato eh perché non me lo dici prima, cordana ah ok, adesso poi ci guardo, grazie magari mi scrivi un messaggio mi dici ciao, adesso non so la tua account eh, se c'è il nome va bene se no, per ricordarmi oddio dico un giorno devo provare a fare un gioco dell'horror che a me non piace beh, ci sarà tanta di quella su Spans oddio, devo attraversare lì io vado le urle che farò ah, grazie, grazie mille oddio, aspetta che metto tutto a tutto schermo è bellissimo questo gioco, guarda c'è una grafica è pericoloso eh, certo non sto suggerendo di cambiare il piano ma lo vedi anche tu, vero? io vedo il suo problema non ci credo una parte di te deve per forza riconoscere che questo è un traguardo magnifico non sei una macchina non puoi essere così limitato quando è che ti fiderai di me? mai io prima il pillaco se lo dici tu ok soprattutto quando ci sono le scende così c'era una scenda dove c'era uno scimmione gigantesco tolgo la web così è meglio eh non è necessario che tu rispondi l'ascensore è stato disattivato probabilmente per rallentarci dobbiamo rimetterlo in funzione e quindi che cacchio devo fare? ah l'ha salvata la missione che ore sono? si è quasi le 6 vabbè provo a fare ancora 10 minuti vediamo un po' ecco e come si fa? uno due tre devo attivare le 3 e qua non si attiva e quindi come si attiva questo affare? eh vedi adesso quello è il caso Crogioli energetici, c'è scritto, e quindi cosa devo fare? E se il dramma è quello, capire cosa devo fare Crogioli energetici Eh, l'ho attivato, però ha detto che non va L'ho attivato, con ragione, 0 di 3 C'è quei 3 che devo attivare, questo qui non si può attivare più Io l'ho cliccato e ho detto che è insufficiente, quindi provo questo, va Vedi, me lo insegna lui quale Questo non si può attivare Qua va inserito qualcosa secondo me, vedi? Vedi qua dentro? Quindi devo trovare... cosa sta a fare qua? Oh niente Proviamo quest'altro Niente Qui ci va inserito una carta, qualcosa Secondo me devi andare avanti per trovare qualche... Eh, infatti devo trovare quelle cose lì che si infilano sicuro Oddio, eh, già mi sto perdendo perché è un labirinto che sta a fare Allora, io non sono venuto di qua, no Sono venuto di là Dove c'è quello rosso Se non sbaglio, eh Oddio, che è? No, è chiuso Eh! Ah, che paura Sì, devo trovare qualcosa qui da mettere là Eh! No, non serve a niente questo Guarda qua Guarda 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 Raccogli Quindi questo lo devo andare a mettere là E' solo che è lento a camminare, vai Oddio, che dice? Quindi, devo trovare tre entrate Tipo questa E in ognuno di esse C'è un affare di questo Vedi? Così Posizione Se la catturano Scopriranno Tutto Le nostre strategie Le ricerche Sugli armamenti La terra Buona fortuna Master Chief Ok Buona fortuna Quindi devo scegliere Gli altri due Vedi? Un'altra si trova di là Sì, ho capito, ho capito Se salti vai più veloce Sì, infatti, però La Pillar of Autumn Era la sua nave Cosa gli è successo? È morto Sono il primo anello che abbiamo trovato Dai, non adesso Mi ho completato le scatole adesso proprio Ecco, qui c'è l'altra Solo che ci sono due tizi qua Vedi che cammina piano lo stesso Cosa è? Eh Perché già lui è pesante Questo affare poi Aiuto Ce l'ho fatta Ok Ok Siamo a due Cosa dice questo? Eh Ok L'ultimo Sarà Qua E' da chi Abbiamo distrutto il primo anello Tu pensa che stanno facendo su Sky La serie televisiva E io la sto vedendo Di Halo E' proprio film Aspetta Ah, ecco c'è una cosa qui Questo è quello che mi hai portato Non ne rimane quasi niente E' il gioco Malunque cosa tu voglia farci E' mio Si Eh, ma dove la vado a trovare l'altra io adesso? Aspetta Scusami E' questo non siamo molto diversi Anch'io conosco bene l'ingiustizia Ah, devo attraversare qua Oh, che due balle Io parlo E tu ascolti Tutti i nemici Oddio E qui non si apre Ah, ecco dove la carta Sì, non è per fare prima Perché così No Oh Me l'ha disattivato la scala La Il ponte E come mai? Oddio Come mai me l'ha disattivato? Che devo uccidere tutti? Ce n'è un altro la Aspetta Aspetta, può essere che devo fare Una cosa del genere? No E adesso come faccio ad andare di là io? Oddio Come faccio? Aspetta Oddio Oddio Come faccio? Santa pazienza Aspetta, 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 aspetta Ci provo eh Bivio ci provo Ah 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 Gente della lampada Ce l'ho fatta Dai, corri Eh, scusami Hai visto? È bello anche per questo Sto gioco, mi piace perché Ci sono gli indizi tra bocchetti e le cose Devi capire come, quando Al di là di tutte le mostre che uccidi Chiamali come vuoi Ok, l'ultima Ok Si Metto di lato così lo vedi Abili dell'ascensore gravitazionale Dovevamo prenderci cura l'uno dell'altra Si, che torniamo assieme e poi dai Ce la facciamo, ce la facciamo, Cordana Allora Eh, però adesso come l'abilito Questo, ecco, di qua Ale Aspetta che metto Ok Ne sei proprio sicuro Lei saprà che sono qui E potrà attaccarmi Potrebbe finire veramente molto male Mi prenderò cura di te Ok, allora Tutto ok Falso allarme Lei non è Perché ti oppone all'inevitabile L'ordine avanza La palingenesi È soltanto un nuovo inizio Aiutami Si Si L'ordine avanza L'ordine avanza Ribellerà i suoi segreti Gli eterni Camineranno di nuovo Questo mondo Non riesco a fermarlo Si Vengo Codice rosso Zero Tre Quattro Che stai facendo? Oh Oddio Che succede? Credevo fossi una squadra E quindi? Dicevi che ti saresti preso cura di me E volevi cancellarmi E tu mi hai fermato Hai messo tutti in pericolo No Se siamo salvi è merito mio Non tuo Ecco Sempre delle donne Sì, sì È cominciata E allora Guarda che cosa fa Programma di infiltrazione Te lo ricordi? Hai infranto il protocollo Qual è il tuo problema? Cercavo solo di aiutarti Di aiutare noi Valeva la pena rischiare? Non importa Ecco l'ascensore gravitazionale Facciamola finita Ok Ritorniamo Obiettivo sbloccato Entra nel pinnacolo Finalmente Mi ha fatto fare un giro Per arrivare qua Che non hai idea C'è una mappa gigantesca Prima mi porto da un punto Da un punto mi fa tornare Poi mi fa tornare Mamma mia Ieri si è arrivato al punto E ho detto basta Finiamo la missione Vediamo cosa devo fare adesso Se la missione è completa Si ho messo Ah hai messo le cuffie Ok Eh se tu sentissi Questo gioco con le cuffie Ah ecco Ok Oh mappa Oh Dovega Che devo fare qua adesso Questo No Devo trovare un'altra card Oh santo dio Adesso dove vado io Ah ecce No No Eppure no Allora Nei missione Le vicinanze Vabbè Dov'è qua E dove devo andare Secondo te Oh 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 Ah Portami a quel terminale Facciamo la finita subito Quale terminale Oh scendo di qua Eh dove la trovo io la card Adesso E queste che sono Ma Ma Allora Qui che cos'è Aspetta Aspetta No qui vado giù Allora per trovare la card Da mettere lì Io devo andare Dove Oddio No lì Ci muoio lì Qui cosa c'è Oddio Questi sono gli enigmi Questi sono gli enigmi Eh non lo sai Mannaggia Pensavo che lo sapessi E qui come Che cacchio devo fare A2 A2 Deve Arrampicata Va che parte Togliamo Sta pistola Che è troppo Grossa Allora Proviamo a salire un attimo Qua Dai Vediamo cosa Cosa si vede Da qua sopra Raggiungi la piattaforma Di osservazione E dov'è la piattaforma Di osservazione Là sopra E poi di lì dove vado Perché magari Mi devo arrampicare Non ti credere Santa paletta Queste sono le cose Che poi Mi fanno bloccare Ma questa Pure Help me Help me Allora Dove hai Secondo La piattaforma Ti stai Allargando La live Anche Ti sta La live No A me A me Non lagga La live Come la guardi Tu con Il cellulare Wi-Fi Aspetta Ecco Ho trovato Tutti i pinnacoli Sono attivi Cosa c'è Eh dipende Se che con il cellulare È facile Che ti lagga La palingenesi Si sta concentrando Io ho la fibra Mille È difficile Io lo poi Ne vedo Lo vedo Sul telefono Sul tablet E sul pc E non mi lagga Poi mi da Il segnale Quando lagga Sulla sua funzione È dal telefono Dipende dal telefono Cioè dalla linea telefonica Dalla connessione Del telefono Ho capito Visto Dovevo andare qui Dai Fammi finire la missione Che poi Devo staccare Oddio Usare Per arrampicarti Aspetta Per arrampicarti Su Eh però Non ho capito Un belino Cosa ha detto Aspetta 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 Per Sulla sporgenza Elevate E come ci vado Io di lì Ecco Eh Ok Mi devi fregare tu No Oddio Eh Dove vado E quindi Dove devo andare Ah Devo salire E poi Oddio Che confusione Sì No No Non dipende Dal telefono Dalla Dalla linea Del telefono Dal gestore Del telefono No 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 Ah Sono morto Ho fatto un basso indietro No Il telefono È buono No Io parlo Io parlo Del tipo di connessione Del telefono Mannaggia Ho fatto un basso indietro E sono morto Eh no Ma sì Ma E allora Devo arrampicarmi Per andare dove Però Io non ho capito Per andare Qua Poi Poi qua Se avessi capito Io che cacchio Devo fare Ah Devo andare Il proprio sud Ho capito Devo arrampicarmi Ok Mi devo arrampicare Ho capito Non mi fate Confondere Perché non so Dove devo andare Ok Ce l'ho fatta E adesso Wow Ce l'ho fatta Anche qua Ok Quindi cosa devo fare Adesso Devo ancora salire No Aspetta 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 Guarda Guarda Meno male Che c'è Quest'aiuto Qua Si Ma è complicatissimo Sto cosa Dove è No Devo anche Trovare Un'altra Carta Devo trovare Un'altra Carta Adesso Signore Ci vuole un'ora Adesso Per trovare Questa carta Ma Ma Eccola Eccola E' Dove è la Carta Oddio Vai qua Ok Dai Speriamo Speriamo che sia L'ultima Vediamo un po' Che succede Che ha fatto Ah Devo salire su Devo salire su Ah Stavo dicendo Che succede Watch Penso che devo andare su Però Proviamo Si Che figata Sto gioco Ragazzi E' una figata Bellissima Oh Mamma mia Guarda qui Eh Probabilmente Qui tutto Potenzialmente Pericoloso Mamma mia Nooo Vabbè La cosa prendo Questa non mi piace Eh Entro di qua Stavolta Il pinnacolo E' attivo E prima che lo dica tu So bene Che deve essere Disattivato Ma guardalo Sta accelerando La palingenesi Creando materie prime E distribuendole Per riparare La nuova Ovviamente O per un fine Più specifico Qualche pericolo Qualche pericolo Eh Eh sì Oh E non muore Questo qua Ma Quanto fa Bbb Perché sono Accorto di Di vita Qui si muoia Uno morto Oh Ma Quanto Quanti ce n'è qua Ne marea Ma che Ma andatevi a fare Una passeggiata Dai dai Ci vuol che devo finire Io Mi dice come ti chiamo Tiki Tok Te l'ho detto Sempre Aspetta Ovunque Mi trovi Sempre come Cipollotto 19 Guarda Lì c'è il link Potevo messo Quello di Instagram Si Youtube E quello del team Che mi segue Già Eh adesso Adesso c'è un casino Qua Eh tu Figurati io Che da Un'ora e mezzo Che qui mi fate morire Oh Oddio dove sono andato Mi ha teletrasportato Da qualche parte Oh Sandro di Guarda cosa c'è qua Eh quindi Adesso Ecco il punto di là Ok Oh Ma sai come si sta in tensione Segui tu la tab Ok Aspetta vediamo un po' Livio Ok ok Grazie Io ho preso un'arma Che No aspetta Questa è zero Oddio Questa è zero Su TikTok Mi hanno tolto 200 follower Lo dicevo ieri Mannaggia loro Eh non ho armi Cioè non ho munizione No aspetta vediamo un po' No aspetta vediamo un po' No aspetta vediamo un po' Dove sei Dove sei Dove sei? Ecco vai Ok adesso cosa devo fare Devo andare di là Questa cos'è? Questa cos'è? 17 colpi Ancora Mi ma è una storia infinita ragazzi Non finisce mai È un labirinto davvero Questa affare Secondo me è l'ultima missione Questa qui Secondo me è l'ultima missione Anche io penso di sì Non me la fa prendere Perché l'arma non me la fa prendere Oddio che c'è qua Me ne pentirai tu Non ho colpi No no Ah adesso venti Ok Aspetta aspetta Sono quasi arrivato Guarda Aspetta perché vedo che non mi hai seguito Aspetta No ho visto che avevi messo Non ho cliccato perché Perché non mi sono distratto Adesso ti seguo tranquillo Ok ok Dove sei Ok No 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 È che quando poi gioco A volte guardo Ma Per non distrarmi Che c'era un momento così Ha detto poi Poi guardo Ok vediamo un attimo Un colpo No Ok Dai fatemi finire Questa missione Per favore Ah che ore sono Dovevo finire Sei e mezzo Vediamo un attimo Se ce la faccio Ok Quindi adesso Qua Madonna Siamo arrivati Al nucleo centrale Ma io Ho poche armi E pochi colpi Anzi Aspetta Aspetta Ormai Sono al nucleo centrale Zero colpi E cosa devo fare adesso Devo andare là No ma ci vado di qua Oddio Wey Ma che aspetta Questa Guarda che Che figata Wey No ma fe questo è tremendo ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta però dove cavolo devo andare dove c'è il puntino chi è che spara ah qua no eh avevo un po' capito suonava b b b b b dai devo finirla devo finirla però no di nuovo qua oh signor non rientro più di un imbraione ma va è quel paese che adesso mi arrabbia ho preso una pistola è che mi mancano le armi prendiamo questa me la prende perché non me la prende vabbè no mi state facendo arrabbiare voi no 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 Grazie a tutti Ho preso un'arma C'è una corazza questa E cosa prendo adesso? Ok All'è All'è ce l'ho fatta Allora Ho zero colpi Allora Se colpi Allora Allora